A TESTA D'INGIU Sono rimasto allibito Allibito dall'intervento Dio allibito Della commissione che mi ha allibito Oggi penso che sia arrivato il momento Di mettere un po' di puntini sulle i Sono sette mesi 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 Il signor Pippo Pippo Perché Pippo per la procura Non è Pippo È Pippo Perché ormai siamo diventati Pippo Peciccia Lo considerano un Pippo Di giustizia Pippo Grazie a tutti Pippo